Grazie Marco della presentazione e anche della collaborazione. Siamo molto soddisfatti, se ne ragioniamo un attimo prima di iniziare con Marco Odorizzi, di come sono andati dal punto di vista dell'interesse queste quattro, tre più una quattro, ma la diamo per scontata, lezioni, conferenze sulle ideologie del novecento, oltre a numeri molto alti di partecipanti in linea, a tutt'oggi le visualizzazioni complessive delle tre conferenze che si sono già svolte, si stanno avvicinando a 800. Certamente siamo lontani da Fedez o cose del genere, ovviamente anni luce, ma siamo molto contenti nella nostra piccola realtà di avere suscitato e di continuare a suscitare un interesse così ampio. siamo anche così convinti e così contenti della bontà dell'iniziativa che abbiamo svolto che abbiamo intenzione insieme alla Fondazione Tarantina Cide De Gasperi di pensare per l'autunno ad un altro ciclo, magari un pochettino più breve e magari più mirato sulla contemporaneità rispetto a questo che aveva una caratteristica diciamo strettamente storica legata al secolo breve. Quindi grazie ancora a voi della vostra partecipazione, parlatene, parlatene e diffondete così supereremo Fedez nel giro dei prossimi secoli. Scherzi a parte, sono molto contento che ci sia Giulia Albanese questa sera con noi e la ringrazio di aver accettato il nostro invito. Giulia Albanese è una delle, è uno, una delle più brillanti studiose del fascismo degli ultimi anni in Italia e anche a livello internazionale, allieva di Mario Isninghi, questo già è in qualche modo un buon marchio, un buon viatico si sarebbe detto in altri tempi, ha soprattutto concentrato i suoi studi sul fascismo, soprattutto sul fascismo direi sul fascismo delle origini e sul tema della violenza. Sia a livello locale, in particolare con due importanti studi sulla, le lotte politiche a Venezia nel primissimo dopoguerra e l'avvento del fascismo, che sul, su Tullio Marsic, uno dei fondatori, uno dei ideatori, creatori del fascismo veneziano, sia a livello nazionale e internazionale. Molto importante è il suo lavoro del 2006 sulla marcia su Roma, pubblicato dall'editore La Terza, parrà strano, ma prima del lavoro di Giulia dovremmo risalire, credo, ai abbastanza vecchi lavori di Vivarelli, comunque che avevano comunque un respiro molto più ampio, per avere un'analisi monografica così approfondita sul tema della violenza che ha preceduto, accompagnato e seguito quell'evento del quale il prossimo anno celebreremo, ricorderemo, analizzeremo il centenario. E soprattutto il suo più recente, credo, lavoro, le dittature, dittature mediterranee, sovversioni fasciste e colpi di Stato in Italia, Spagna e Portogallo, che è un libro di qualche anno, pochissimi anni fa, anch'esso pubblicato dal Molino, scusate, dalla Terza, in cui Giulia Albanese fa una comparazione estremamente interessante tra le tre dittature più o meno fasciste, questa è un'altra questione su cui magari si sofferberà lei stessa questa sera, dell'area mediterranea che hanno segnato gli anni 30 e che come noto per la Spagna e per il Portogallo sono arrivate fino agli anni 70, quindi molto vicine a noi. Ringraziando ancora Giulia della sua partecipazione, le cedo immediatamente la parola e ci rivedremo, ci risentiremo al termine della sua lezione. Grazie Giulia, a te. Grazie mille, grazie Gustavo per la lusinghiera presentazione, grazie alla Fondazione Trentino Alcide De Gasperi, a Marco Dorizzi, sono molto felice di essere qui questa sera. Allora, nel corso del discorso dell'ascensione, pronunciato alla Camera dei Deputati il 26 maggio del 1927, Benito Mussolini tracciava un bilancio dei primi cinque anni di governo e affermava, abbiamo fatto una cosa enorme, secolare, monumentale. Quale? Abbiamo creato lo Stato unitario italiano. Pensate che dall'impero in poi l'Italia non fu più un Stato unitario. Noi qui riaffermiamo solennemente la nostra dottrina concernente lo Stato. Qui riaffermo non meno energicamente la mia formula del discorso alla scala di Milano. Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato. In che cosa consistesse la costruzione fascista dello Stato unitario italiano nei precedenti cinque anni di governo? Mussolini l'aveva spiegato nei minuti precedenti. Essa si stava concretizzando con lo sviluppo di misure per la salute fisica del popolo e con la crescita demografica dell'Italia come strumento per evitare, cito, la decadenza e affermare la propria forza anche nei campi di battaglia. Con la riorganizzazione amministrativa dell'Italia, con la riorganizzazione delle forze e delle leggi di pubblica sicurezza e il controllo più generale dell'ordine pubblico, con la costruzione di un equilibrio politico che prevedeva il prevalere dello Stato sul partito e del prefetto sui segretari di partito, naturalmente il partito fascista. Tutte cose che Mussolini definiva avvenute con il consenso della popolazione. In questa lunga lista di temi affrontati che costituiva una riflessione a tutto tondo sul regime e sui suoi obiettivi, alcuni temi risaltavano significativamente. Tra questi la riflessione sugli antifascisti che erano considerati finiti e non provvisoriamente e la cui detenzione nelle località di confino veniva considerata una misura di profilassi. Diceva Mussolini, si levano questi individui dalla circolazione come un medico toglie dalla circolazione un infetto. La questione, tra le altre questioni, c'era anche la questione di italianizzazione dei territori di confine, di cui si declamava un'italianità primigenia, che andava ritrovata. E poi la politica economica e l'importanza del rafforzamento della lira, il prevalere dello Stato sull'individuo, in ogni circostanza, riassunta nella celebre formula, già detta, del totalitarismo mussoliniano. Si esplicitava così un profondo desiderio di modificare, rimodellare, ripensare il popolo italiano e portarlo ad incarnarsi nel modello proposto dal fascismo. Questo discorso ci ricorda l'indirizzo politico e ideale dentro il quale si muoveva il fascismo, un indirizzo non svincolato dalla politica violenta perseguita nella fase delle origini e continuata poi durante il regime, sia pure sottotraccia, parallelamente alla ripressione istituzionale. In un certo senso, tuttavia, si può condividere l'argomentazione di Mussolini nel suo discorso del 3 gennaio 25, che affermava che il fascismo non era stato solo olio di ricino e manganello, sto citando, e un'associazione a delinquere, sempre dal discorso di Mussolini, che vi ricorderete, ma anche la definizione di una nuova idea d'Italia, un'Italia che aveva tra le sue caratteristiche fondanti l'esclusione, l'aggressione e la minaccia contro gli oppositori politici e le minoranze e contro chiunque non si conformasse allo stato fascista, per scelta o per possibilità di fare diversamente. Il fascismo delle origini voleva senz'altro ripensare l'ordine della nazione in funzione antisocialista, ma costruiva, sia pure a tratti e almeno inizialmente, in maniera confusa e ambigua, un'idea d'Italia che ebbe un peso significativo nella costruzione del regime. L'obiettivo di questo intervento di questa sera è riflettere su come il fascismo pensò l'Italia e gli italiani, l'italianità, e ragionare sul modo in cui questo regime trasformò i confini della cittadinanza nel paese a partire dall'ascesa al potere. Dopo la guerra, la difesa e il rafforzamento della nazione si trovavano al centro del programma politico del neonato movimento fascista. Mussolini e la galassia fascista ritenevano fosse necessaria una mobilitazione degli italiani per non perdere ciò che dal loro punto di vista politico era stato guadagnato nel corso del conflitto. In particolare questi uomini si concentrarono non solo sulle acquisizioni materiali, ma anche su quelle morali e di prestigio della nazione, come ad esempio lo status internazionale dell'Italia nel nuovo contesto geopolitico. Infine, e soprattutto, i fascisti intendevano evitare il ritorno del paese nelle mani dei neutralisti, non concedendo alcuno spazio politico a chi aveva versato la guerra, attuando politiche di contrasto sia nei confronti della classe dirigente liberale che dei socialisti e dei cattolici, al fine, nella loro prospettiva, di assicurare un solido futuro ad una più grande e una più forte Italia. Lo scollamento tra l'idea fascista di nazione e la realtà delle istituzioni parlamentari, ma anche, per contrasto, la realtà delle scelte di voto degli italiani, è un elemento da considerare attentamente per capire le radici del desiderio fascista di fare la rivoluzione e creare un nuovo italiano. Il fascismo aspirava a rappresentare quella che considerava la vera Italia, senza considerare le preferenze politiche dell'elettorato italiano, che alle elezioni politiche del 1919 aveva votato nella stragrande maggioranza per forze che prima della guerra erano state neutraliste e avevano auspicato che l'Italia non entrasse nel conflitto. È in questo contesto che dopo la guerra, ma seguendo una linea di sviluppo già attivata per certi versi nelle battaglie interventiste, si fece sempre più forte la tensione, nella prospettiva fascista ma anche nazionalista, tra chi era italiano e chi meritava di essere italiano, con un' identificazione progressiva dell'italianità, con sentimenti e prospettive di stampo nazionalista via via sempre più estremo. Mussolini sviluppò particolarmente questi principi a partire dal 1919, al punto da farne un punto importante dell'azione politica del fascismo, sia legale che illegale, e della sua legittimazione. Già alla fine del 19, il futuro Duce insisteva sul ruolo di fascisti, arditi e volontari di guerra e dei, cito, cittadini tutti che non sono indegni della qualifica di cittadini, per spezzare il gioco della violenza dei socialisti. Questi sono il testo di un discorso del 2 novembre del 19. Questa idea della degnità e dell'indegnità dell'italianità aveva forte implicazioni sui principi di cittadinanza che si sarebbero sviluppati negli anni di governo del fascismo, ma furono visibili nel campo dell'azione politica, sia fascista che nazionalista, già prima della marcia su Roma. I conflitti alimentati dal fascismo prima della presa del potere, infatti, sulla base delle premesse illustrate fin dal novembre 19, avevano l'obiettivo di definire un confine tra italiani meritevoli o meno e nelle aree di confine anche tra italiani e non italiani. Attraverso la contrapposizione alle attività politiche degli avversari, la violenza contro i simboli, le sedi, i militanti e gli esponenti politici nemici, i fascisti andavano infatti ridefinendo gli spazi e i diritti politici degli avversari, mettendo anche in questione i diritti civili di ciascun cittadino di fronte alla legge. Queste pratiche erano senz'altro illegali, ma erano spesso tollerate dalle autorità e costituivano aspetti centrali non solo dell'azione fascista, ma anche della concezione da parte del fascismo dei diritti civili dei cittadini italiani non fascisti. È significativo a questo proposito che poco tempo dopo la marcia su Roma un osservatore come Giacomo Matteotti osservasse, e lo cito, l'essere fascisti è insomma una seconda e più importante cittadinanza italiana senza la quale non si godono i diritti civili e la libertà del voto, del domicilio, della circolazione, della riunione, del lavoro, della parola e dello stesso pensiero. Per quanto riguarda i rapporti con le minoranze linguistiche e l'attenzione rivolta alle zone di confine, va senz'altro ricordato che il tentativo di affermazione dell'italianità a discapito dei diritti e delle autonomie locali fu centrale nella politica del fascismo anche alle origini del movimento. Le prime violenze fasciste si verificarono proprio nelle zone di confine, specialmente nelle terre redente, proponendosi come obiettivo lo scontro con le minoranze nazionali, che talvolta si sovrapponevano, come nella Venezia Giulia, agli avversari politici. Quello che si ricorda come il primo assalto fascista avvenne, come sappiamo, a Trieste contro l'hotel Balkan, centro culturale degli sloveni che risiedevano in città. Sempre a Trieste, alcune settimane dopo, Mussolini dichiarava che l'italianità era il primo filastro fondamentale dell'azione fascista e, mentre riconosceva l'esistenza tra i cittadini italiani di appartenenti alle minoranze nazionali, al tempo stesso ne sottolineava la scarsa rilevanza numerica rispetto ad altri contesti in Europa. Il discorso era particolarmente interessante perché rifletteva al tempo stesso sui fondamenti dell'italianità per i fascisti, sugli elementi di forza del popolo italiano, la storia e la fertilità, sull'emigrazione, sulla politica di potenza e sui confini della nazione. Tutti temi che sarebbero stati essenziali nella politica fascista e che toccano al cuore il tema della cittadinanza e dell'italianità e le sue implicazioni nella politica del fascismo. Nelle zone di confine e nei rapporti con le minoranze fu però la marcia su Roma rappresentare fin da subito un evidente significativo punto di svolta, sia dal punto di vista politico che legale. Commentando il primo discorso di Mussolini, presidente del Consiglio, l'osservatore romano, che non ha bisogno di presentazioni, affermava, e cito, il cattolicesimo da religione uguale alle altre confessioni professate da insignificanti minoranze, si fa religione dominante dello Stato. La nota traeva origine dal discorso parlamentare di Mussolini che aveva garantito il rispetto a tutte le fedi, con particolare riguardo a quella dominante che è il cattolicesimo, diceva. Subito dopo, da fiducia a questo governo, tra l'altro, il crocefisso diventava obbligatorio in tutte le aule delle scuole elementari pubbliche e progressivamente in tutti gli uffici pubblici, mentre una serie di misure, anche economiche, venivano disposte in favore del Vaticano. Si apriva così una convergenza tra la Chiesa cattolica e il fascismo, il cui fine era la soluzione della questione romana, ma che avrebbe ridefinito anche i rapporti dello Stato con le minoranze religiose. Questo è ritorno alla lettera dello Statuto, che considerava il cattolicesimo religione di Stato e gli altri culti solo ammessi, minava la progressiva equiparazione dei diritti tra i fedeli delle diverse religioni, realizzato nei decenni precedenti, dando di fatto il via a quella che Mircele Sarfatti ha efficacemente chiamato, con riferimento all'ebraismo, ma la riflessione è applicabile anche alle altre minoranze religiose, come la persecuzione della parità. Tuttavia, il cambio di passo imposto alla marcia su Roma sarebbe stato visibile soprattutto nei rapporti con le minoranze nazionali, presenti ai confini del Paese. I modi in cui furono applicati dal nuovo Presidente del Consiglio i poteri eccezionali per la riorganizzazione dello Stato, che gli erano stati concessi a partire dal novembre 22, confermano questa interpretazione. Queste misure, giustificate dall'esigenza, condivisa anche dal mondo liberale e sostenuta da un'ampia maggioranza parlamentare, di mantenere in equilibrio i conti pubblici, in ragione della crisi economica che aveva colpito il Paese dopo la guerra, sarebbero state applicate in modo politicamente significativo. Questi tagli furono infatti largamente utilizzati per il licenziamento di impiegati pubblici, in particolare in quelle categorie in cui si trovavano soprattutto i lavoratori antifascisti, particolarmente degno di nota il licenziamento dei ferrovieri, e i membri delle minoranze nazionali, anche se le norme non erano esplicitamente intese nei loro confronti. In Alto Adige, nella Venezia Giulia, i fascisti locali chiedevano inoltre con forza la revisione dei criteri che garantivano la cittadinanza italiana alla minoranze, l'espluzione da quei territori di chi non era italiano e la sostituzione degli impiegati pubblici che fossero membri di minoranze nazionali. Il governo Mussolini rispose positivamente a queste richieste fin dai primi mesi di insediamento. I provvedimenti per l'Alto Adige, elaborati dal nazionalfascista Ettore Tolomei, con la collaborazione dell'ex sacerdote e ideologo antisemita Giovanni Preziosi, furono infatti il fulcro dell'azione politica fascista in questi territori. L'epurazione delle minoranze nazionali e linguistiche dalla pubblica amministrazione delle province di Bolzano e Trieste fu poi estesa dal Ministero dell'Interno al sistema giudiziario nei mesi successivi. Nel frattempo, ulteriori misure furono adottate contro le minoranze anche attraverso la riforma dell'istruzione realizzata nell'ottobre 23 dal filosofo Giovanni Gentile. Questa riforma imponeva la chiusura delle scuole non italiane, il licenziamento dei docenti che non conoscessero perfettamente la lingua nazionale, cioè la maggior parte di coloro che lavoravano nelle aree in cui i residenti appartenevano in precedenza alle aree alle minoranze, e l'insegnamento delle lingue e delle minoranze come residuale è possibile solo su richiesta dei genitori come orario aggiuntivo. Quella che è stata definita la più fascista delle riforme fu quindi anche uno strumento fondamentale di italianizzazione del paese e delle aree di confine, e non solo quelle appena acquisite, oltre che di affermazione di un rapporto speciale tra fascismo e cattolicesimo. L'italianizzazione fascista era quindi cominciata con la chiusura delle scuole che garantivano il diritto all'educazione nella propria lingua madre, alle minoranze linguistiche, e nelle zone in cui queste minoranze erano maggioritarie. Questa marginalizzazione ed espulsione dagli incarichi pubblici delle minoranze sarebbe stata ulteriormente accresciuta dopo il 25, per effetto delle leggi fascistissime. Malgrado infatti queste leggi, considerate fascistissime, fossero pensate soprattutto contro individui, gruppi e associazioni di oppositori politici, e se vennero facilmente utilizzate ai fini della politica di nazionalizzazione nelle aree di confine. Questo orientamento si sarebbe inoltre rafforzato negli anni successivi, per esempio provvedendo con una legge del 26 alla restituzione, tra virgolette, dei cognomi italiani alle popolazioni residenti in Alto Adige, seguita da una legge analoga nel 27 per la Venezia Giulia. A partire dal 28 queste politiche si estesero anche i nomi propri dei bambini neonati, anche se a partire dal 30 il regime fu portato ad attenuare queste misure in ragione della distensione dei rapporti con l'Austria. Si può quindi affermare che la conquista del potere trasformò le politiche nei confronti alle minoranze sin dalla marcia su Roma, ma che ciò nonostante l'avvio del progetto totalitario a partire dal 25 ebbe un impatto non irrilevante sul piano dei rapporti già largamente segnati con le stesse. Inoltre, sempre attraverso le leggi cosiddette fascistissime, il regime rese evidente l'equazione non solo politica ma anche legale tra italianità e fascismo. Apportando nel gennaio 26 quelle che venivano qualificate come modificazioni e aggiunte alla legge di cittadinanza del 1912, che prevedevano il ritiro della cittadinanza e nei casi più gravi anche la confisca dei beni, ai fuoriusciti che avessero provocato turbamento dell'ordine pubblico o danneggiato gli interessi o l'onore della patria. La legge, malgrado l'applicazione limitata dovuta alla scelta di utilizzare queste misure soprattutto come strumento di minaccia e di dissuasione nei confronti di quelli che venivano chiamati i fuoriusciti, e la parziale revoca dei suoi effetti con l'amnistia del 1932, fu di fatto confermata dal Codice Rocco e in modo significativo legava strutturalmente l'inclinazione politica e la cittadinanza, esplicitando così uno dei nodi dell'ideologia politica fascista. Pochi giorni prima delle modifiche di questa legge della cittadinanza, il Parlamento italiano aveva promulgato un'ulteriore legge a danno alla minoranza allogena, provvedendo che si potessero privare dalla cittadinanza italiana appartenenti alla minoranza linguistica del paese che si esponessero con azioni che li rendessero indegni di esse per la loro condotta politica. Come Perger ha osservato, la legge priva la strada a una divaricazione dei diritti per i cittadini italiani con vecchia e nuova cittadinanza e questa distinzione, si potrebbe aggiungere, sarebbe stata in qualche modo sviluppata anche dalle leggi antisemite del 38 che privavano della cittadinanza gli ebrei naturalizzati italiani dopo il 19. Insomma era una legge che tendeva a diciamo escludere dalla cittadinanza chi aveva comportamenti e atteggiamenti politici di avversione nei confronti del fascismo. L'evoluzione di queste misure contro le minoranze linguistiche non si sarebbe fermata qui. Il 29 avrebbe rappresentato un ulteriore snodo, e culturali scusate, non solo linguistiche, avrebbe rappresentato un ulteriore snodo nei rapporti tra fascismo e minoranze sia sul fronte legale che delle pratiche di governo. Da una parte infatti il concordato tra Stato e Chiesa avrebbe ulteriormente rafforzato la marginalizzazione dei non cattolici, innanzitutto enfatizzando il carattere confessionale dell'Italia, in cui il cattolicesimo diveniva un elemento progressivamente esclusivo degli altri religioni. Questo avrebbe avuto significative conseguenze sulle minoranze religiose, sia dal punto di vista simbolico, ma anche penalizzante per il controllo amministrativo, quando talvolta poliziesco, che venne effettuato da quel momento in poi sulle comunità religiose non cattoliche e che questa legge rese possibile. Contestualmente, e su un piano completamente diverso, la crisi economica del 1929 fornì al regime l'occasione di sviluppare misure di colonizzazione interna delle aree abitate da coloro che venivano definiti allogeni e delle terre di loro proprietà, per definire una progressiva italianizzazione del territorio con strumenti diversi, tra i quali il controllo e la trasformazione degli istituti di credito locali e la loro italianizzazione e altre misure di questo genere. In questo contesto anche le politiche industriali venivano piegate agli intenti di italianizzazione del regime e laddove lo sviluppo industriale di una città come Bolzano, largamente sostenuto allo Stato, aveva lo scopo di aprire la strada all'immigrazione di italiani come forza lavoro per i nuovi processi produttivi, ovviamente diciamo con una marginalizzazione degli altri abitanti di questi territori. Non tutte queste misure furono efficaci e in particolare il trasferimento della proprietà della terra nelle mani dei non allogini, ma il fatto che queste misure non fossero efficaci non dimostra che questi non fossero gli obiettivi del regime. Parlando nel 1934 ad una conferenza sulle minoranze, organizzata a Chicago dalla Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà, lo storico Gaetano Salvemini, ormai in esilio da diversi anni, illustrava l'evoluzione delle politiche del regime nei confronti delle minoranze a partire dal 22. Salvemini insisteva fortemente sulle discontinuità tra i modi in cui la classe dirigente liberale aveva affrontato la questione all'indomani della guerra e le politiche realizzate dal regime fascista. Egli sottolineava il disprezzo espresso da Mussolini e delle gerarchie fasciste per le dichiarazioni della classe dirigente liberale sul rispetto dei diritti delle minoranze ed evidenziava inoltre come il regime avesse messo in atto diversi tipi di intervento nei confronti delle minoranze. E dimostrando come le politiche fasciste prendessero di mira tutte le minoranze nazionali o in altri casi come queste stesse minoranze fossero oggetto di misure specifiche con lo scopo di rendere meno evidenti il quadro più ampio delle misure da realizzare. Il quadro presentato da Salvemini, purtroppo un po' sottovalutato dalla storiografia, risulta rivelatore seppure il lucido ragionamento svolto dalla storico rimanesse un unicum nei decenni successivi. La scelta di riflettere contemporaneamente sulle diverse politiche fasciste nei confronti delle minoranze come parte di un unico disegno e non considerando esclusivamente le relazioni tra lo Stato e ciascun specifico gruppo, dava infatti un quadro molto più complesso di questa attività del regime e consentiva allo studioso in esilio di avvenzare ipotesi sugli sviluppi politici successivi. Salvemini infatti ipotizzava in questa conferenza che queste politiche avrebbero potuto prendere di mira anche gli ebrei italiani, siamo nel 34. Egli portava infatti ad esempio l'episodio avvenuto qualche mese prima quando due giovani antifascisti, uno di loro era Mario Levi, figlio dello scienziato Giuseppe Levi e fratello di Natalia Levi Ginzburg, che tutti conosciamo, erano stati arrestati al confine nord occidentale del paese e la stampa fascista aveva ampiamente enfatizzato le loro origini ebraiche come a sottolineare un legame specifico e speciale tra ebraismo e antifascismo. L'episodio agli occhi di Salvemini non era che un tentativo per verificare come l'opinione pubblica avrebbe reagito e per minare la fiducia degli ebrei italiani e la loro certezza che il regime non avrebbe adottato misure specifiche contro di loro. In questo modo il regime cercava di spingere gli ebrei italiani a esplicitare in maniera ancora più forte la loro realtà al regime, cosa che era avvenuta puntualmente dal momento che pochi mesi dopo questo episodio la classe dirigente ebraica aveva deciso di fondare un giornale filofascista ebraico, La Nostra Bandiera. a testimonianza della fedeltà al regime, del mondo ebraico e non solamente di loro come cittadini italiani. Salvemini proseguiva poi il suo ragionamento evidenziando come senz'altro questo tipo di misaccia esercitata sotto traccia dal regime non avrebbe impedito agli ebrei antifascisti di continuare a fare azioni contro il fascismo ma che questo avrebbe minato la fiducia degli altri. Il quadro proposto da Salvemini come sappiamo si rivelò acuto e straordinariamente capace di prevedere sviluppi successivi delle politiche fasciste. Ciò nonostante colpisce che Salvemini in questa circostanza non abbia in alcun modo fatto riferimento all'affinità e per certi versi anche al parallelismo delle misure che prendevano di mira gli antifascisti, cioè i nemici del fascismo in genere e non solo gli ebrei antifascisti, e le minoranze nazionali, in particolare con riferimento alla legge che permetteva di privare entrambi della cittadinanza italiana. Una legge che peraltro aveva colpito in primis lo stesso Salvemini. Tuttavia il rapporto stretto tra italianità e fascismo costruito dal regime fin dalle origini in qualche modo implicava quasi naturalmente il considerare gli antifascisti alla stregua di non italiani e anche i non italiani come antifascisti, a dire il vero. Le ricadute anche legali di questa idea erano apparse chiare nel 26, quando il regime aveva realizzato quella legge che privava della cittadinanza i fuoriusciti che avessero aiutato o commesso atti che potevano turbare l'ordine nel regno o danneggiare il buon nome e il prestigio delle stesse del paese, cosa che peraltro appunto, come vi dicevo, avrebbe colpito lo stesso, aveva colpito lo stesso Salvemini. Intanto, nel 1933, poco prima dell'intervento di Salvemini a Chicago, l'Italia fascista intraprendeva anche la strada di una legge organica per l'Eritrea e la Somalia, con l'obiettivo di superare le aporie della precedente legislazione e definire meglio i termini entro cui il tema della cittadinanza, della sudditanza e ancor più dei figli misti di coppie italiane e popolazioni locali era stato definito fino a quel momento. Questa legge non cambiava la definizione del ruolo di suddito nelle colonie e confermava che il figlio di un cittadino italiano potesse essere riconosciuto dal padre e conseguentemente divenire cittadino italiano o potesse chiedere di diventire tale al compimento della maggiore età. Tuttavia, era necessaria l'approvazione di un giudice che doveva appurare nei casi in cui fosse figlio di una coppia mista che il richiedente fosse degno per educazione, tenore di vita, eccetera, di essere italiano. La legge significativamente introduceva anche una prova della razza che permetteva di attribuire automaticamente la cittadinanza a un bambino nato in colonia da genitori italiani o comunque somaticamente non coloniali e non riconosciuto come tale, introducendo in questo modo, come sottolineato recentemente da Olindo de Napoli, un concetto giuridico di razza che collegara l'aspetto raziale alla cittadinanza. Quindi, diciamo, i bambini somaticamente, che apparivano somaticamente italiani nella portacezione del regime, acquisivano automaticamente questa cittadinanza. Questa legge statuiva perciò un'ulteriore divaricazione del diritto di cittadinanza in Italia che seguiva percorsi diversi di attribuzione a figli di genitori ignoti a seconda che i bambini si trovassero in Italia o in colonia e al tempo stesso ampliava la possibilità di riconoscimento dei figli di padre italiano secondo direzioni già utilizzate in colonia sul piano amministrativo e finora non riconosciute dalla legge. La legge del 1933, inoltre, tornava a negare la possibilità che una cittadina italiana, sposata ad un suddito coloniale, potesse mantenere la cittadinanza, perché è considerato disonorevole che una donna potesse stare con un uomo, diciamo, considerato non all'altezza dell'italianità. Questo decreto non era tuttavia l'unico intervento che toccasse i termini dello status di cittadinanza coloniale di quegli anni, prima ancora delle radicali trasformazioni introdotte in seguito alla proclamazione dell'impero. La svolta razzista sarebbe giunta però nell'aprile del 1937 con le sanzioni per i rapporti di indole coniugale fra cittadini e sudditi, che in un'ottica esplicitamente razzista approviva l'unione tra italiani e sudditi coloniali, rendendo questo reato punibile con la reclusione. A questa norma ne sarebbero seguite altre, tra le quali le sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana, che punivano qualsiasi trasgressore di pratiche definite come morali e legali per l'uomo nuovo fascista. Queste norme introducevano l'irrigidimento delle pene per i regati commessi in presenza o in concorso con i sudditi coloniali, ma anche punivano in particolare l'atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o comunque in odio alla razza italiana. Sto naturalmente citando l'articolo. In questo modo il legame tra il tema dell'onore, che era stato centrale anche nel definire la privazione della cittadinanza per i fuoriusciti e della cittadinanza veniva riportato al centro del discorso fascista con un possibile slittamento tra il tema della cittadinanza e il tema recentemente introdotto della cosiddetta razza. Poco dopo, come è noto, a seguito di una campagna di stampa antisemita, sempre più significativa nella seconda metà degli anni 30 e in particolare a partire dal 37, tra l'estate ed autunno del 38, la dittatura fascista avviò la legislazione antiebraica, facendola precedere il 15 luglio dal 38 dalla pubblicazione del manifesto degli scienziati razzisti. Le leggi antisemite e razziste di questi anni prendevano di mira la popolazione coloniale, quella ebrea, ma anche le relazioni degli italiani non coloni, non sudditi coloniali e non ebrei, con i sudditi coloniali e con la popolazione ebraica italiana, andando a ridefinire ulteriormente un disegno culturale e politico specificamente razzista del regime e chiarendo definitivamente come l'italianità fascista avesse al tempo stesso una natura politica, culturale e biologica. Il decreto legge del novembre 38, il decreto 1728, quello appunto in cui venivano introdotte le leggi antisemite, era inoltre significativo e drammatico per la popolazione ebraica italiana, i cui diritti civili andava a compromettere in maniera irrimediabile, oltre che per quanto decideva, anche perché indicava la strada per ulteriori evoluzioni del rapporto tra cittadinanza, italianità e razzismo. Michele Sarfatti, che ho già citato, ha a più riprese sottolineato come questo provvedimento prefigurasse già la possibilità di un'ulteriore evoluzione. La privazione della cittadinanza italiana agli ebrei dichiarati stranieri e nemici si sarebbe realizzata pienamente, infatti, con l'istituzione della Repubblica Sociale Italiana. Ma questa frattura tra i diritti e l'appartenenza nazionale era già messa in atto dalla logica della divergazione dei diritti tra ebrei e il resto della comunità nazionale e dall'evidente volontà del regime di concedere ampie possibilità di emigrazione alla popolazione ebraica, anche evitando di segnalare la loro origine ebraica, malgrado di questa possibilità fossero privati tutti gli altri cittadini. I provvedimenti sulla razza mostravano però altre possibilità di radicalizzazione, in particolare l'attenzione è stata naturalmente posta soprattutto sull'impatto di queste leggi sugli ebrei italiani, piuttosto che sulle implicazioni che questa idea di italianità avrebbe avuto sulla maggioranza del paese e su tutti coloro che per una ragione o per un'altra potevano essere considerati minoranza. Non molta attenzione è stata posta finora ai figli di unione miste tra cittadini italiani ed ebrei italiani, oggetto di politiche fasciste, e ancora meno attenzione è stata dedicata al fatto che la prima sezione di quel decreto legge non mirava a colpire persone di origine ebraica, ma era dedicata a regolare i matrimoni dei cittadini italiani con stranieri, cittadini diciamo non ebrei e stranieri non ebrei. In questa sezione il regime esalciva infatti che il matrimonio di italiani con non italiani dovesse essere sottoposto all'autorizzazione del Ministero dell'Interno e anzi della divisione della razza. In questo modo il 38 rappresentava un ulteriore spartiacque, sia pure apparentemente non discriminatorio, anche nei confronti di quegli italiani e quelle italiane che stessero per intraprendere un percorso coniugale o un progetto familiare con uomini e donne non italiani. Tanto su più significativo in quanto per esempio il primo decreto della legge della protezione del sangue e dell'onore tedesco promulgato nel 35, che impediva il matrimonio e rapporti sessuali tra tedeschi e stranieri, era stato tuttavia circoscritto in una nota di una decina di giorni dopo, per delineare solo il divieto di sposare, cito, zingari, negri e i loro bastardi. In Italia non c'era nessun divieto, ma lo sguardo era rivolto comunque a qualsiasi relazione coniugale di italiani con stranieri. Questo decreto è significativo per diverse ragioni, ma anche perché sembra prefigurare un futuro in cui cittadini italiani sposati con stranieri avrebbero potuto essere marginalizzati, tacciati di responsabilità nei confronti della razza e privati assieme ai loro figli dei loro diritti di cittadinanza, diritti di cui peraltro da lungo tempo erano e sarebbero state private comunque le donne che sceglievano di sposare un non italiano. In questo modo i provvedimenti della razza si configuravano anche come uno degli ulteriori dispositivi attraverso il quale lo stato totalitario procedeva a un controllo tentacolare su una parte crescente dei suoi cittadini, più gravemente nei confronti degli ebrei ma anche dei non ebrei e sui loro possibili sconiugi oltre che sulle loro famiglie. In questo contesto è interessante registrare che mergrado il regime fascista si volesse rivoluzionario nella creazione di uno stato nuovo e di un nuovo tipo di italianità, non solo non ridefinì completamente il quadro costituzionale del paese, non abrogando mai lo statuto albertino e modificandolo nel tempo in maniera ambigua, ma non abrogò neppure la legge di cittadinanza promulgata nel XII che definiva chi potesse essere considerato cittadino o meno dello stato italiano. Tuttavia, malgrado questa apparente stabilità di queste leggi fondamentali nella definizione dell'italianità e della cittadinanza, abbiamo visto come alcuni cambiamenti sostanziali furono introdotti nella definizione dei diritti di gruppi di cittadini e della loro appartenenza allo stato, attraverso leggi ordinarie che modificavano anche notevolmente la lettera e il senso dello statuto albertino. Anche se non è possibile affermare alcuna continuità necessaria tra le diverse politiche del regime in materia di discriminazione e di cittadinanza, le misure nei confronti delle minoranze e delle minoranze nazionali in particolare evidenziano quanto rilevante fosse, fin dalle origini del fascismo, la volontà di ridefinire chi fosse e chi dovesse essere considerato italiano e come progressivamente il legame tra confermità ad un certo ideal tipo di italianità e titolarità di specifici diritti apparisse rafforzato, pure in un contesto generale di limitazione dei diritti civili e abolizione dei diritti politici degli italiani. Questo permette, sia pure in maniera non lineare e contraddittoria, di tracciare legami forti tra l'idea di cittadinanza che si andava affermando nel regime e le discriminazioni attuate nei confronti di specifici gruppi. Inoltre, diversamente da quanto molti hanno affermato nel tempo e invece in linea con i più recenti approcci relativi alle origini dell'antisemitismo e del razzismo fascista, l'analisi delle politiche di cittadinanza nei confronti delle minoranze mostra quanto l'evoluzione antisemita del regime fosse già un'opzione non solo possibile ma largamente plausibile molto tempo prima di venire realizzata. Le leggi razziste del 37-38 segnarono però uno snodo definitivo della storia del regime. Da una parte, infatti, queste leggi promulgate per privare i cittadini italiani di origine, cultura o appartenenza ebraica di molti dei diritti di cui erano stati titolari nell'Italia liberale e in una fase della storia dell'Italia fascista, come Sarfatti evidenza, costituivano un primo passo nella direzione di una futura privazione della cittadinanza italiana degli ebrei. E se il legame tra cittadinanza e diritti può apparire comunque debole in un stato totalitario, come anche per certi versi, sia pure in modo diverso, lo era stato anche nell'Italia liberale, prima della definitiva adesione ad un modello di cittadinanza che garantiva effettiva corrispondenza tra appartenenza e titolarità di diritti. Tuttavia è significativo che queste norme discriminatori nei confronti delle minoranze più volte andassero a modificare il quadro della legge di cittadinanza o mettessero in moto meccanismi, come nel caso delle leggi antiebraiche, che sarebbero andate in quella direzione. Il testo di queste leggi apre dall'altra parte uno squarcio anche sulla possibilità che il numero e la tipologia di coloro che non sarebbero stati considerati sufficientemente fedeli alla patria e quindi indegni di essere cittadini, anche in ragioni delle loro scelte private, avrebbe potuto aumentare. Il controllo sugli italiani che decidevano di unirsi ad una straniera, compreso quello nei confronti delle donne italiane che decidevano di unirsi ad uno straniero che comunque già, secondo la legge del XII, perdevano la cittadinanza, può essere visto infatti come una misura rivolta contro coloro che, più o meno consapevolmente, stavano minacciando l'ipotetica omogeneità dell'Italia, un'omogeneità che per il fascismo era una omogeneità di sangue e di stirpe. Seppure questa ipotesi apre prospettive di ricerca che andranno esplorate, essa si iscriverebbe dentro la svolta razzista che l'Italia fascista aveva invocato con le leggi degli anni trenta. La cancellazione di queste leggi, avviata con il reggio decreto del 20 gennaio 44 e la successiva redazione della Costituzione, con particolare ma non esclusivo riferimento all'articolo 3, ha permesso di rerubricare come rilevanti e comunque limitate le implicazioni di queste leggi nella traiettoria più lunga della storia d'Italia e della concezione dell'italianità, senza però mettere minimamente in discussione la legislazione liberale e alcuni dei presupposti discriminatori di quella legislazione e senza riflettere sulla misura del consenso e dell'introiezione di un'idea discriminatoria e razzista di chi fosse italiano avvenuta durante il fascismo. Grazie. Grazie Giulia, molto interessante questo intervento svolto in larga misura sul filo della legislazione, dell'amministrazione che ci mette in evidenza anche sicuramente una delle peculiarità della dittatura nazionalsocialista, fascista per esempio nei confronti di quella nazionalsocialista, ancor più nei confronti di quella comunista dove la discrasia tra le leggi e la prassi, nel caso italiano, è una discrasia relativamente limitata, contenuta comunque che ha tutta una serie di limitazioni legate al fatto che si stava dentro a un quadro normativo di uno stato che continuava ad avere come propria carta costituzionale lo statuto del 1848. Grazie a molte. Aprirei quindi la chat a chi vuole porre domande, quesiti, sollevare obiezioni nei confronti della relazione di Giulia che comunque va anche al cuore insomma per certi per molti aspetti di un problema che è il problema anche dei nostri tempi e sempre di più sta tornando ad essere un problema dei nostri tempi di queste società italiane come le altre società dove appunto la frammistione, il mescolamento, gli spostamenti, la liquidità sono sempre più ampi, sono sempre più significativi e quindi dove la tematica della cittadinanza acquisisce assolutamente una centralità che sembrava qualche decennio fa avere in qualche modo perduto, dandola per scontata. Ci sono interventi, ci sono chat. Allora rompo il ghiaccio io perché evidentemente è necessario rompere il ghiaccio, qualche volta accade. La tua relazione è stata una relazione molto tecnica, forse questo naturalmente pone delle problematiche e allora la legge del 1912 non viene mai toccata nella sostanza, non viene mai modificata formalmente ma di fatto viene bucherellata in ogni momento. Il tema iniziale che tu hai sottolineato più volte è il tema della dignità o dell'indegnità soprattutto di essere italiani. Questo tema viene, come viene sviluppato dai giuristi? Perché siamo su un livello essenzialmente di tipo giuridico, c'è un'argomentazione, ci sono delle argomentazioni che, come dire, chiarificano questo aspetto o rimane nella nebulosa dell'ideologia. Mi dispiace se questa relazione in qualche modo ha bloccato per il suo tecnicismo, ma in realtà diciamo l'obiettivo era mostrare come esiste un legame molto profondo tra questa legislazione e il modo in cui cambia la vita e progressivamente cambia anche il confine dell'italianità in questo paese. Allora, da questo punto di vista c'è un intreccio tra, diciamo, le misure giuridiche e anche la riflessione dei giuristi e la quotidianità degli italiani. Quindi da questo punto di vista mi sembra che c'è una riflessione, c'è una riflessione e ci sono, diciamo, pezzi del codice Rocco che ci portiamo avanti fino ai giorni nostri sulla questione dell'onore e diciamo dell'italianità. Ovviamente in un contesto che è completamente diverso e in cui la definizione di questi confini è molto molto cambiata. Tra gli anni venti e gli anni trenta però questa definizione legittima una serie di misure razziste e discriminatorie nei confronti di gruppi diversi che penso di avere, diciamo, mostrato nella loro diversa articolazione che di fatto impoverisce o restringe lo spazio di decine di migliaia di italiani, lo spazio di vita, lo spazio di espressione, lo spazio anche di vita quotidiana, perché questa questione delle minoranze nazionali e linguistiche e poi delle minoranze religiose ha delle implicazioni molto forti nella vita quotidiana. Grazie. Allora sì, stanno emergendo i primi. Andrea Labella, mio virgolette vecchio allievo di molti anni fa, oltre alla Chiesa Cattolica, ci sono altre posizioni culturali e politiche che convergono col fascismo sulla ridefinizione della cittadinanza e della nazione? Innanzitutto, diciamo, posizioni culturali, il nazionalismo si fonde dal 23 con il fascismo e costituisce, diciamo, una parte del discorso ideologico fondamentale del fascismo in questo ambito. Quindi questa è una corrente, diciamo, molto forte e direi che è quella essenziale. Una parte della classe dirigente liberale, come sappiamo, si adegua il fascismo e volendo, diciamo, ci sono anche storici che magari enfatizzerebbero come anche, diciamo, l'accoglienza delle minoranze nazionali a partire dal 1919, dopo la vittoria della guerra, diciamo, sia meno irenica di come in certi versi l'ho rappresentata. Anche se sia il sovrano che i presidenti del Consiglio liberali avevano fatto delle dichiarazioni importanti, che pure non erano legge, in questa direzione. Quindi, diciamo, queste sono le correnti culturali più importanti. Dopodiché, per quanto riguarda, per esempio, il mondo ebraico, sappiamo che il mondo ebraico si, in qualche modo, si adegua a un'idea di italianità fascista fino al 38 e che la stessa nascita di questo giornale, la nostra bandiera, nel 34, che Gaetano Salvemini legge come una risposta alle minacce neanche tanto velate del regime, è in parte l'adesione a quel progetto, a quel pensiero di nazionalismo fascista, che ancora non è esplicitamente razzista, diciamo. Umberto e Vanna Scalia, in modo molto molto simile, pongono la stessa questione che trovo molto fondata. Vanna Scalia scrive, ma gli italiani hanno mai veramente creduto alla teoria della razza di stampo fascista? Diciamo sicuramente l'hanno accettata e sicuramente, diciamo, io direi che sicuramente l'hanno accettata. Quanto ci abbiano creduto è più complicato ed è oggetto di discussione e deve essere ancora oggetto di studi. Sicuramente, diciamo, in chi pensa e riflette sul nazionalismo italiano, volendo estremizzare, ci sono due correnti di pensiero, una che pensa che in qualche modo il nazionalismo, in quanto nazionalismo, abbia avuto un impianto, abbia un impianto sostanzialmente di fondamento, diciamo, velatamente razzista fin dalle origini, no? E chi invece ritiene che ci sia una strada, diciamo, democratica e libertaria dentro il nazionalismo. Gli studi più recenti direi che vanno più in questa direzione. Io direi che il problema però non va isolato come un problema del popolo italiano, ecco, nel senso che, diciamo, in modo diverso e articolato diversamente, a seconda delle diverse realtà, ma, diciamo, il razzismo nel mondo europeo e occidentale forse è più ampio di quanto ci siamo raccontati spesso. Quindi non lo vedrei come una peculiarità italiana. Diciamo che la peculiarità italiana è non aver fatto i conti fino in fondo con questo razzismo fascista, che secondo me è un razzismo molto più profondo e che ovviamente nel caso della discriminazione anti-ebraica e anti-semita raggiunge dei livelli particolarmente terribili, ma che, diciamo, è connaturato alla gestione del potere e all'idea di italianità del fascismo. Questo io penso che lo sia, ecco. Sì, grazie. Alcuni altri interventi, credo, hanno già trovato una risposta, in particolare Sergio Carletto chiede, tu ad ombri, lo ritieni, che tu ad ombri che un'ideologia di tipo Fölkisch sia connaturale al fascismo sin dalle sue origini. Mi sembra che tu già abbia già dato. Sì, se posso aggiungere due parole. Diciamo che sì, cioè io penso che, magari non tutto, ma che esista una corrente molto forte di questo tipo di ideologia fin dalle origini, che questo si vede molto più evidentemente ai confini della nazione, piuttosto che non in aree, diciamo, meno di confine, e che con questo sia necessario fare, diciamo, che questo tipo di ideologia vada analizzata con più profondità di quanto sia stato fatto finora, non come un elemento marginale, ma come un elemento centrale dell'ideologia fascista. Sì, se posso permettermi di aggiungere, pensiamo per esempio al caso dell'Alto Adige o su Tirolo, per dirsi voglia, cioè il fascismo era pronto a liberarsi di 300.000 cittadini, come niente, senza... che erano bianchi, biondi, non avevano niente di coloniale, niente di extraeuropeo, ma se li stava giocando tranquillamente con Hitler, senza alcuna problematica, il tema dell'antislavismo, che è alle origini, nelle origini del fascismo, come tu hai ricordato, beh, ha pesato quando l'Italia ha occupato, domanda, ha occupato i territori dei Balcani? Certo che ha contato, ma se poi si vedono, diciamo, i pochi condannati ufficialmente a morte dal fascismo sono quasi tutti di origine slava, diciamo, ecco, e questo ci dimostra che dal punto di vista anche della repressione istituzionale, questo è, diciamo, un elemento molto, molto importante. Rossella Zelioli ci porta, a cui chiedo scusa di averla sorpassata nella chat, ci porta al presente, quanto ha pesato questa pesante eredità fascista sull'uso molto strumentale del concetto di patria, dunque di italianità, messo tra virgolette della signora Zelioli. Nell'Italia repubblicana, penso alla destra ora sovranista, che ha radici molto lontane, che spesso emergono su questioni tipo foibe, esodo istriano, eccetera. Io non penso che questa questione abbia pesato nello stesso modo in tutte le fasi della storia dell'Italia repubblicana, però penso che, diciamo, come dimostra la vicenda dell'antisemitismo, l'Italia abbia tardato a fare i conti con questa dimensione, diciamo, razzista, e che questo ha avuto delle conseguenze, perché il fatto di non riconoscere, ed è chiaro che in questo conta molto anche il fatto che, diciamo, percentualmente la diversità culturale in Italia è, diciamo, probabilmente minore che in altri contesti nazionali, e che quindi, diciamo, si può di più fingere una presunta omogeneità nazionale, che poi, insomma, andrebbe anche un po' articolata, ma, insomma, allora questa finzione dell'omogeneità nazionale ci ha permesso di ragionare meno, forse che in altri contesti, sul razzismo e sul non riconoscimento, diciamo, di culture italiane altre, ma profondamente italiane, perché la presenza ebraica non è una presenza, diciamo, né episodica né recente, no? Quindi ci ha permesso di non guardare alle differenze che esistevano all'interno, diciamo, nell'Italia e tra gli italiani e, diciamo, e questo ovviamente favorisce in una fase completamente diversa in cui, appunto, anche i confini della cittadinanza, come ricordava Gustavo, stanno cambiando oggi più che in altri momenti, di, diciamo, di non fare veramente i conti anche con quello che siamo stati, oltre che con quello che siamo diventati, no? Perché di fatto non siamo abituati a ragionare in termini di una appartenenza che però si può declinare in modi diversi e con culture diverse. Questo è, facciamo fatica, no? Facciamo fatica a pensare che qualcuno in Italia possa non festeggiare il Natale. Però succede, c'è, ci sono italiani, pienamente italiani, che il Natale non lo festeggiano. Allora il fatto che noi non riusciamo neanche a concepire questa cosa ovviamente non è razzismo, però, diciamo, favorisce un non riconoscimento di una problematica razzista quando questa si presenta. Io direi così, diciamo. Sì. Ferdinando Arrigò, che finalmente si è, come dire, svelato. La Chiesa italiana ha mai fatto una riflessione approfondita sulle sue relazioni con il fascismo? La Chiesa, diciamo, come parlare dell'Italia, parlare della Chiesa. La Chiesa è tante cose diverse, mi pare. E quindi ci sono settori intellettuali e personalità che hanno fatto alcuni conti, in alcuni casi anche simbolici, penso a una visita in particolare alla sinagoga di Roma di diverse decine di anni fa o cose del genere. Però penso che ci sia ancora molto lavoro da fare. Ecco, ovviamente il Concilio Vaticano II ha rappresentato un momento di passaggio e anche di presa di distanza. Però c'è un lavoro da fare. Però ci sono ormai, soprattutto tra gli storici, direi, riflessioni importanti sul rapporto tra Chiesa e fascismo e che, diciamo, non si fermano al riconoscimento degli screzi e dei conflitti tra Chiesa e fascismo dell'inizio degli anni 30, che è veramente, diciamo, ridurre un discorso molto complesso a degli episodi pur importanti, ma che, diciamo, non possiamo ragionare sulla Chiesa in quei termini. Ecco, quindi direi che c'è ancora molto lavoro da fare, ma che, insomma, c'è anche del percorso che è stato fatto. Giuliano Pantano, una tragedia rimossa dalla memoria nazionale della storiografia riguarda i campi di concentramento nei quali furono internati i cittadini italiani appartenenti a minoranze linguistiche prima, i cittadini ugloslavi poi, Gonars, Colfiorito, Visco. È possibile avere anche una bibliografia in proposito? Naturalmente non così al volo, ma insomma qualche... Sì, sì, Costantino Di Sante ha lavorato su questi temi, mi pare, questo lo direi all'impronta, direi così, ma volentieri posso dare degli altri riferimenti. In realtà, diciamo, su questi temi cominciano ormai ad esserci studi storici anche importanti. Purtroppo, diciamo, la distanza tra il discorso pubblico e il discorso scientifico mi pare che sia molto ampia, cioè che ci sia una difficoltà di riconoscimento di una serie di questioni che invece avrebbero bisogno di essere più presenti nel discorso pubblico. Penso a questo, penso, per esempio, diciamo, è molto recente anche il riconoscimento del ruolo degli italiani nella persecuzione degli ebrei nel 43-45 in maniera particolare, laddove invece, appunto, si continua a ragionare anche di giorno della memoria come se fosse un problema esclusivo del nazismo e non fosse un problema che riguarda a pieno che cosa è stato il fascismo italiano e le responsabilità degli italiani. E quindi, diciamo, questa distanza bisognerebbe lavorare per colmarla, io credo, perché anche molte delle polemiche anche strumentali che emergono nei giorni, diciamo, memoriali forse richiederebbero una più ampia conoscenza di che cosa è stato il fascismo, di qual è stato il suo ruolo nel determinare e nel portare alla Seconda Guerra Mondiale e via discorrendo. Sì, sì, certamente ci si, mi ricordo un esempio caratteristico un po' di questa discrasia tra il discorso degli storici e l'opinione pubblica quando arrivò Luzzanti con il suo libro sulla guerra sangue degli italiani facendo finta che non ci fossero stati decine di studi negli anni, nei decenni precedenti soprattutto da parte della rete degli istituti di storia della residenza che Luzzanti conosceva molto bene perché lui viene fuori da lì anche lui e in studi proprio su questo stesso identico tema c'è quello dell'evolenza politica tra la fine della Seconda Guerra Mondiale i primissimi anni del Secondo Dopoguerra è un grosso problema dell'Italia. Sergio Carletto nel discorso pubblico prevale un'istanza di pacificazione affrettata senza assunzione piena di responsabilità un commento Ci sono d'accordo e lo trovo molto preoccupante nell'avvicinamento al centenario del fascismo perché di fatto diciamo se noi non riusciamo a avere una riflessione a 360 gradi su quello che il fascismo è stato e accettiamo diciamo anche questo discorso di normalizzazione del fascismo che è stato portato avanti negli anni da una parte dell'informazione del mondo diciamo del mondo più moderato eccetera per cui appunto progressivamente dopo il 45 si è cominciato a ricordare quanto buon padre fosse Benito Mussolini come i treni arrivassero in orario e via discorrendo beh se noi non facciamo i conti a pieno con la responsabilità i crimini di guerra le violenze il razzismo del fascismo è chiaro che rischiamo poi di trovarci a un cento anni dalla marcia su Roma a dirci beh insomma ma se non ci fossero state le leggi razziali forse diciamo andrebbe bene il fascismo forse non era così male allora io insomma penso che non bisognasse aspettare le leggi razziali del 38 per capire che il fascismo era un regime con una forte impronta criminale violento e aggressivo bastava anche il 1922 e la marcia su Roma vedremo il centenario Giulia naturalmente Giampaolo Pansa non era Guzzanti che tu avevi infatti fatto uno sguardo sconvolto ma devi avere pazienza perché mi sto avvicinando ma io sono anche io che sbaglio i nomi ogni tanto non mi ricordo le cose quindi i nomi e le date Rossella Zellioli anche in questo la virgolette continuità dello Stato virgolette pavone tra parentesi pesa molto sì sì dopo io penso che poi che poi ci siano delle fasi penso che poi ci siano delle fasi diverse nella storia d'Italia cioè che chiaramente questa continuità si sente molto di più negli anni 50 di quanto non si senta negli anni 60 e 70 per certi versi diciamo a seconda delle a seconda delle declinazioni quindi sicuramente sicuramente c'è stata c'è stata una continuità degli apparati c'è stata una continuità dello Stato eccetera ci sono state anche importanti discontinuità e a seconda delle stagioni e delle fasi hanno prevalso maggiormente alcuni aspetti o altri io non non vorrei diciamo sono abbastanza continuista ma nello stesso tempo non vorrei però che questo che questo ci impedisse di vedere anche le straordinarie rotture e anche gli straordinari cambiamenti che sono avvenuti dopo il 1945 in ragione delle scelte degli italiani del ruolo della resistenza eccetera perché se no diciamo si rischia di passare da diciamo da un estremo all'altro senza bene capire quali sono i processi che veramente hanno hanno trasformato hanno trasformato il paese certo diciamo quello che vedo è che ritorno diciamo alla questione dell'antisemitismo eccetera facciamo più diciamo con più facilità ricordiamo i giusti di quanto non ricordiamo i carnefici no questo diciamo mi pare che però questo sia un problema nel senso che abbiamo bisogno anche di esempi positivi a cui appoggiarci e rispetto ai quali misurarci però abbiamo anche bisogno di sapere che cosa che quali sono i crimini che sono stati commessi in che misura e diciamo a cosa ha portato il conformismo e il fascismo perché se no veramente diciamo rischiamo di perdere le misure della realtà grazie c'è qualche ci sono dei complimenti che ti leggi tranquillamente tranquillamente online io credo se non ci sono altri interventi che possiamo chiudere questa conferenza molto molto interessante ringrazio veramente Giulia del suo intervento e passerei la parola a Marco Dorizzi per chiudere come dire questo ciclo che credo abbia suscitato davvero un grande interesse ringrazio tutti i partecipanti vicini e lontani ma soprattutto ringrazio Giulia ultima dei nostri ultima nell'ordine di tempo dei nostri relatori Marco a te la parola grazie a te mi accodo semplicemente in realtà i ringraziamenti al pubblico anche oggi partecipe alla professoressa Zeno Albanese per per la relazione sono molti gli spunti credo che ne avessimo il tempo ne avessimo l'occasione adesso dopo tutta la carrellata per chi l'ha seguita di queste quattro ideologie come abbiamo detto altre volte non sono tutte le ideologie del novecento ne abbiamo scelte quattro metterle così quasi in confronto sinottico apre una serie di spunti e fa sorgere anche alcune domande su che cosa siano le ideologie cosa abbia preso il posto delle ideologie dopo la loro fine insomma si accompagna un po' verso anche verso alcuni quesiti che scuotono la contemporaneità e che forse è proprio quello che cercheremo di mettere nel mirino per così dire nel prossimo ciclo che iniziamo già a progettare per il prossimo autunno e vedremo se mantenere questa modalità da remoto se alternarla alla possibilità di un incontro in presenza che naturalmente dà emozioni diverse ma credo che come dicevo anche in apertura molti di voi non avremmo avuto occasione di incontrarli stando a levico e l'esperimento direi del ciclo è funzionato molto bene grazie a un pubblico attento paziente e partecipe e grazie anche e soprattutto a degli ottimi relatori e relatrici grazie dunque a tutti quanti continuate a seguire le attività della fondazione degli altri enti del Forte Colle delle Benne del Centro Studi sull'Europa Orientale della Biblioteca Comunale di Levico ferme e torneremo anche con un nuovo ciclo di webinar e spero che ci sarà l'occasione ancora di discutere insieme non solo di storia grazie a tutti e a questo punto buona serata grazie buona serata a tutti grazie a tutti